Una vicenda che ricorda le dispute tra il sindaco Peppone e Don Camillo nella frazione di Arsego a San Giorgio delle Pertiche con setitudine festeggiare il patrono il 16 ottobre in occasione della Fiera Franca, anche se la data precisa sarebbe il 23 aprile. Il sindaco aveva chiesto alla curia di posticipare i fosteggiamenti patronali per poter chiudere le scuole e uffici. Dopo la risposta negativa della chiesa, il sindaco ha predisposto un'ordinanza risolvendo la pratica burocratica. Scuole chiuse per inaccessibilità della struttura e così i bambini e i genitori lunedì 16 ottobre potranno andare tutti alla fiera.